La scienza non gode di buona salute nel nostro paese, non gode di buona salute dal punto di vista dei finanziamenti e dal punto di vista della percezione della scienza nella società. Nella comunicazione della scienza spesso abbiamo a che fare con visioni di tipo miracolistico, la scienza viene contrabbandata con un insieme di certezze e spesso non viene trasmesso il senso di meraviglia, di entusiasmo e di stupore per le scoperte che permea la vita scientifica e i nostri laboratori. Noi come gruppo 2.0 pensiamo che gli scienziati abbiano il dovere di comunicare nel modo più semplice, più corretto e più umile possibile alla società, alla società che li mantiene, alla società quello che fanno e le implicazioni di quello che fanno. Ecco, Scienza in Rete cerca di adempiere a questa missione. Scienza in Rete è un sito dagli scienziati e per gli scienziati e per la società e vuole essere un luogo di incontro fra scienziati e società civile. Grazie a tutti.